Megaton Musashi Non ne sono sicuro, però vediamo Non ne sono sicuro Il Sidole è un'esplosione Il Sidole è un'esplosione E' un'esplosione Il Sidole è un'esplosione E' un'esplosione Ma se che Il Sidole-Usa Il Sidole è un'esplosione Il Sidole E' un'esplosione Il Sidole-Usa Il Sidole-Usa Il Sidole-Usa Il Sidole-Usa Sì, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Mirai, non hai dimenticato nulla, vero? No, ho contratto tutte e tre volte proprio come detto tu, papà. Cerca di obbagliare tutti gli ordini del capitano Ibushi quando sei in missione, ok? Cos'altro, cos'altro... Papà, smettere di preoccuparti così tanto. Lo sai che è trovare la fonte del miasma non è la mia prima missione. Vai anche tu alla base oggi? Sì, ho alcune cose di cui devo occuparmi. Allora prendiamo insieme dopo la mia missione. D'accordo, promesso. Fai attenzione, ok? Sì. 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 Ciao. Sì. Italia. E'ii. Eccomi qui! Devo cogliere a centro missioni! Uh, quindi ora controlliamo Lei! Ora controlli in Mirai Asami. Grande! Abbiamo rilevato l'ottereo di numerose fonti di rimpiasmo provenienti dalle fratture del terreno di rigidi sul posto Ok Musashi Delta che è un pochino più debole a quanto pare di quello che ci serve ma ce la faremo comunque Deve esserci il motivo per cui mi ria cresciuta tanto velocemente in un solo anno Sono d'accordo ma tutti i suoi esami sono risultati normali è davvero una 16 anni in perfetta salute Non ha alcun senso Non deve averlo L'unica cosa che posso dire con certezza è che ormai il tempo scorre normalmente anche per lei Attualmente la sua attività cedulare è uguale a quella di un essere umano normale Non ci sono segni di invecchiamento rapido Significa che la sua crescita rapida era solo temporanea? Penso di sì Ha preso l'equivalente di 15 anni di conoscenza da libri e computer in un solo anno È davvero notevole a dire il vero A livello cedulare il suo corpo ora ha davvero 16 anni E la crescita cedulare si è fermata a quel punto L'età in cui gli esseri umani raggiungono il picco delle prestazioni fisiche Ci deve pure essere un senso nascosto Non saprei In ogni caso l'unica cosa che possiamo fare ora è vegliare su di lei Perché è una bambina meravigliosa Ed è questo ciò che conta Hai assolutamente ragione Teru, sei stanco? Lo sarai senz'altro Sembri un po' invecchiato Davvero? Non mi sento diverso dal solito Eh, Teru su per giù ha la stessa età La terraformazione con il raggio asteroidale procede nei tempi previsti Cosa dobbiamo fare in caso di piccoli errori? Non dovrebbero rappresentare un problema Continuate pure a utilizzare il raggio Cosa? Aspetta Che accidenti è? Trasmetto l'immagine sullo schermo principale Quello è... un essere vivente? Una forma di vita lunga due chilometri? Com'è possibile? Forse è una forma di vita nata dall'inquinamento Come i worm Ma... ha qualcosa di diverso Lunga due chilometri? Che cosa diavolo è mai quello? Animus La bestia divina interdimensionale Ma perché è qui sulla terra? Potrebbe essere entrato in risonanza con l'animus alato quando l'hai evocato, regina Arshem Mi sembra difficile da credere L'animus testa profondamente a legarsi con altri Ciò che mi preoccupa di più è il wormhole che collega le nostre dimensioni Come è fatto ad aprirsi sulla terra? Regina Arshem Potrebbero esserci altri che come l'ion accusate il potere di comunicare attraverso le dimensioni? Non è pericoloso? Dipende dalla volontà di chi l'ha evocato L'animo si è potente ma non ha coscienza di sé Quindi è guidato dall'istinto e dall'animo dell'evocatore Il che fa sorgere spontanea una domanda Chi avrà mai deciso di evocarlo? Al momento non percepisco alcuna aggressività da parte sua Oh eccoci in missione finalmente Capitano non pensi che la destinazione della nostra prossima missione sia un po' impietante? Cosa? Per caso è puro del buio Asami? Ah certo che no, non ho paura di nulla Mirai, la scavezza collo o una fifona? Nah Ma guarda chi c'è La banda al completo Concordo Che male educati Ma sono comunque tra il 3% dei migliori a scuola Oh, scavezza collo ma con un cervello Se non la smettete giura che vi sparo alla schiena Ascoltate squadra Il nostro compito è quello di eliminare la fonte del miasma nelle profondità della fenditura L'origine del miasma è per metà viva Quindi è possibile che reagisca Guardatevi le spalle, capito? Sì signore Quindi le hanno fatti in serie questi Va bene Oh, arriva già la gente Bersaglio in vista Ecco l'origine del miasma Che schifo, non voglio neppure avvicinarmici Mamma mia È la prima volta che ti trovi ad avere a che fare con una forma di vita di tipo Kraken Koji hai detto la stessa cosa sulle creature di tipo nuvole e di tipo roccia Fattene una ragione Smettere di essere così codardo ogni volta Ho detto solo che mi facevano schifo Basta con le chiacchiere Dobbiamo eliminare ogni singola minaccia È il nostro lavoro Arrivano altri È incredibilmente profonda Ah, lo sapevo Hai davvero a paura del buio Chiedi quella bocca Koji Allora, in ogni modo capitano Non dimenticarlo Mi ha detto che presto mi avresti raccomandato per un prosto in prima squadra Ma la prima squadra non è quella dei roghi di combattimento Sei impazzito, Mirai? Già Come fai a non avere paura di combattere in una vera battaglia? Papà combatteva in un rog, sapete? Quindi volevo provare anch'io Mirai, combattere non è un gioco emozionante come pensi E non è il momento di fare questi discorsi Concentrati sulla missione D'accordo, signore Grande Ehi Wow Ma hanno cambiato anche le casse ora? Che strano Perché l'hanno fatto prima? Cioè Questo praticamente sarebbe Diciamo Un DLC gratuito Se proprio vogliamo essere Un pochino larghi col termine Che hanno messo nella versione Wired Boh Non lo so Ragazzi Hanno fatto le cose per bene Ma sono alla fine Ok Raccogliamo l'energia che ci serve Ah Interferenza Ma non serve a loro Questi non sono Rogue Beh andiamo all'interno Vedo qualcosa Solo una eh Ci penso io Koji Koji dietro di te Cosa Accidenti Mi ha preso Koji No Non male Figo sto nemico nuovo Oh bella parè Eh però insomma Nulla di che eh Una pistola Sono più per il corpo a corpo Mirai Pessima notizia Sono scaraventata al di là del muro Dannazione Era collegata a un'altra grotta Capitano Vado a tirarla fuori da lì Oh Non un'altra volta Altre trenuta di tipo Kraken Altre trenuta di tipo Kraken Koji è troppo pericoloso Lascia perdere Dobbiamo prima eliminare questi qui Sì signore Capitano La forma di vita non identificata Si è spostata in superficie Devo dare inizio all'inseguimento No Siamo nel bel mezzo di processo di terraformazione Se ci muoviamo ora Ritarderemo la ricostruzione della terra Confido che la base operativa Ortega Saprà occuparsene La forma di vita non identificata Si è spostata in superficie Dov'è diretta? Credo che stia cercando di localizzare Chi gli ha dato coscienza Ma chi sarà mai? Non so Gente abbiamo un grosso problema Questa base è proprio sul suo percorso Di questo passo ci piomberà addosso Oh no Le cose si mettono davvero male Devo tornare subito dal capitano Forza Possiamo farcela Camera curativa attivata Sarà operativa tra 4 ore e 37 minuti 4 ore? Come faccio a tornare ora? Ma accidenti Questo è un totale disastro Eh C'è qualcuno lì? Che diavolo è? Ma cosa? Il nemico si è inventato qualcosa di nuovo? Muoviti Ti devi muovere No! No! Aspetta Cosa? Accidenti Sto scendo qualcosa da lì dentro Oh una Terran Aspetta Tu sei un Draktor? Cioè un cittadino di Xidol? Prova ad avvicinarti e ti sparo Fero Ma dire la guerra è finita Metti giù la pistola Ti prego Cosa intendi dire con La guerra è finita? Esattamente quello che ho detto Aspetta Sei rinternato qui da così tanto tempo Che non hai idea di cosa sia successo? Oppure sei solo un Draktor Che si ostiene a combattere Inutilmente nonostante La rapacificazione La prima che hai detto Oh bene Allora perché non collaboriamo Per uscire da qui? Sembra che la tua unità funzioni ancora Oh! Pensavo davvero di essere spacciata Tutto Tutto bene? Questo è Un terremoto Anche se ne dubito C'è qualcosa che si sta avvicinando Stai dicendo che mi guiderai? Che cosa hai detto? Un'evocazione? Cosa significa? Cosa c'è adesso? Un mostro gigante? Yamato è un po' impegnato al momento tesoro Quindi ho chiesto a Masamune Di aiutarmi Una squadra improvvisata contro un mostro Speriamo di farcela Sarebbe meglio di sì figliolo È il tuo lavoro no? Forza mostrami il tuo spirito combattivo Hai ragione O la va o la spacca? Bestia divina Una grande forma di vita non identificata Minaccia di abbattersi su di noi Preparati e impediscile di raggiungere la base Ok quindi questa missione dovrebbe concludere il capitolo 24 Che è anche il penultimo capitolo Partiamo allora Let's go ski broski E vediamo un po' che ha questa bestia gigante Che vuole abbattersi sul solo terrestre Oh boy yeah Bello questo Questa volta schiereremo un'ità pesantemente guarazzata Capace di sopportare i colpi di quello scarabèo mostruoso Parli di Musashi Cross Zinon e di Maximus Blades Titan Giusto? Ma Musashi Cross non era stato grato per lo spazio? Il modello personalizzato Zinon presenta un'evoluzione rispetto a Cross Ah però loro dicono X in italiano Eh vabbè Ragazzi vada come vada Perché è un modello multiruolo Allo stesso modo che la sua potenza extra per l'uso terrestre Anche il taglio è un'unità eccellente Insomma prima ho detto io X e poi loro dicevano Cross Poi dico Cross e loro dicono X Vabbè è uguale Oramai siamo alla fine Ma dove si sarà cacciato Yamate? Perché diavolo devo essere io sul rimpiazzo? La squadra incaricata del nuovo sistema di sviluppo gli ha chiesto aiuto Ecco dov'è Ma poi di che cos'è che si occupano? Niente io conosco i dettagli Wow Quindi mi stai dicendo che la strella del nostro eroe è ancora in ascesa Per filo di più rispetto a quando era un pilota Musashi X Zenon pronto a lancio? Ricevuto Uh bello 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 proprio eh Eh sì Dai voglio vedere subito in azione Andiamo 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 Guarda l'altro che bestione Faremo tutto il possibile per fermarlo Già Stiamo venendo a prenderti Scherzo della natura Sapete un po' mi mancava tutto questo Hai ragione Ultimamente tutti i combattimenti sono stati una noia tale Ma sembra che oggi avremo pari per i nostri denti eh Ah questo è il fattore di riparazione quindi Ok Ok Aia Sì però amico mio Tu fai un po' troppo male eh Scusami se te lo dico I nostri attacchi non funzionano sul serio? Quando lo colpiamo non si muove neppure Così non andiamo da nessuna parte Ora che c'è? Regine Arshem Che cosa dovremmo fare? Un rogue non basterà fermare quella cosa Allora chiederà a Yamato di farlo Yamato Oh Yamato i cittadini Ma dovrebbe essere con il team di sviluppo del nuovo sistema No non vorrà per caso dire che Yamato L'animo scarabè si sta avvicinando L'obbiettivo originario del nostro nuovo team di sviluppo era quello di ricostruire Martello degli Dei e utilizzarlo per rispristinare la terra ma trovarsi improvvisamente a combatterci Sì è difficile pensare al martello degli Dei come a qualcosa di diverso da un nemico C'è un detto che dice dalle grandi rivalità nascono le migliori amicizie Himari, Duke, andiamo Martello degli Dei secondo attivato Attivazione della postura del gigante Sì è difficile da morire le campi Fai forti Sì attivate E ora si fa sul serio Prepararsi a sparare con il laser di superficie principale Non credo che funzionerà contro di lui Useremo la forza brutta per fermarlo Barriera corazzata esterna attivata Concentriamo l'energia nelle gambe e sovraccarichiamole Dovremmo essere in grado di arrivare al 200% Ricevuto, da inizio sovraccarico delle gambe fino al 200% di massimale Mettici alla prova adesso, mostra gigante Forza attaccalo mentre lo tengo bloccato ma non colpire martello degli dèi Neanche per sbaglio Cos'è? Mi hai preso per scemo? Stai dicendo che se concentriamo l'energia sui nostri attacchi riusciremo a infleggerli dei danni, giusto? Dobbiamo provare, non abbiamo alternativa Puoi contarci Dove diavolo stai mirando? Attacca il cabuto, non i nostri Il nostro bersaglio è martello degli dèi, cerca di concentrarti E che diavolo stai facendo? Smettila di perdere tempo Sì ma alla fine ci fa sempre del male comunque Cioè non cambia niente Devo stare attenti Non possiamo avvicinarci, ma far da lontano No, scansati Yamato, tutti i generatori dei motori sono vicini al limite È pericoloso continuare a caricarli così Accidenti, è un velo rammollito per essere un bestione Kojiro, mi dispiace, ma per ora devi lasciar perdere Puoi provare a guadagnare tempo finché non torno? Che cosa hai in mente Yamato? Un gran bel botto, vedrai Cerca di non farti prendere, ok? Cerco di non farlo fuori prima che torni Ma non ti prometto nulla Provaci solo Gli attacchi del roll dovrebbero avere qualche effetto ora Potete farcela Ricevuto Santo cielo, lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo davvero? Non abbiamo altra scelta Quindi rassegnati Se perdiamo si schienterà contro la base E non glielo permetteremo Costi quel che costi Ma al diavolo, fai come vuoi Aspetta un po', con Jun sono? Ma dov'è? Ma per favore Ma vieni qua, vieni Ho fatto sprecare l'attacco Il maledetto Ma tu guarda se Ma come si fa Come si è ricaricata Jun? Si è ricaricata la vita Jun? Come ha fatto? Ah perché l'abilità le ho dato Giusto Aia Fattore guardia Ah ok Ah beh Oh vai allora vai Pista pista Non sento niente Non sento niente No no Vai vai Jun Vai vai Non fa male Non fa male Abbiamo indebolito notevolmente Ma resiste ancora Chiamato Qual è il problema? Siamo al limite qui Ehi gente Mi sono mancato? È un pochettino Kojiro Kojiro E poi non è che abbiamo E poi non è che abbiamo altre alternative Se c'è qualcuno che può riuscirci Hai amato Non lo sapremo finché non ci avremmo provato E adesso Anche considerando la differenza di peso È impossibile sollevare l'animus scarabeo Ho un'idea Kojiro Usa il blaster zion a croce Per distruggere il terreno sotto i piedi di martello degli dèi Ma questo lo sbilancierebbe No funzionerà Provoci e basta D'accordo? Ok ho capito Inizierai la sequenza del blaster zion a croce Fuoco con il blaster zion a croce Imari tocca a te Dirigi tutta la potenza sulla gamba anteriore Solleviamo quello scarabeo Massima potenza sulle gamba anteriore Iper booster attivato Sop la smartola degli dèi Suplex City Wow abbiamo appena capavolto un scarabeo Alla nostra occasione Spari anni nel ventre Mystery Omega Multi Bersaglio Fuoco Wow E' svanito Ce l'abbiamo fatta? Non sono ancora sicuro di cosa fosse Ad Diamante La comparsa dell'Animus è iniziata come previsto. Il piano di Terrem per ricostruire la terra dà tenere già il cancello della singola verità generando l'Animus. L'Animus divora le civiltà per far nascere la natura. Sta tutto accadendo secondo i tuoi desideri. E così assisteremo alla vera rinascita del pianeta. E tutto grazie a voi, miei alleati. Beh, a quanto pare hanno aperto il vaso di Pandora che avevamo sigillato sul nostro pianeta natale. L'hanno spaccato in due, vorrei dire. Credo che sia un modo migliore per descriverlo. L'Animus con Corner era la forza alla testa dell'esercito di Camu. Hanno trovato qualcosa che non avrebbero mai dovuto trovare. Quando i Camu cercarono di sfruttarne il potere non riuscirono a soggiogarlo completamente. E l'Animus divenne incontrollabile. Poi i Camu perirono, perché non erano riusciti a contenere la proliferazione dell'Animus. E il Zaid abbandonò la terra in baglia dell'appetito dell'Animus e fuggì sparando nel cosmo. Non condivido questo giudizio. Era più che altro una strategia per eliminare Camu. Detto questo, vogliamo andarcene ancora una volta? E dove sarebbe il divertimento, Eve? È ora che anche noi ucchiamo ai festeggiamenti, eh? Mare di Efeo ritiene che tra le forme di vita della terra possa nascondersi la possibilità di un'evoluzione finale. Non voglio incorrere di nuovo nella sua ira. Eve, è impossibile per qualsiasi essere superarci attraverso l'evoluzione. Se anche si stesse una forma di vita del genere, credo che l'Animus quantomeno le eliminerebbe. Una varida argomentazione. E' così il versetto della rovina che un tempo ha cancellato l'umanità dalla faccia della terra, risuona ancora una volta. L'armageddon dell'Animus è appena iniziato. L'armageddon dell'Animus è appena iniziato.